Ci troviamo a Lama, con Trada San Domenico, precisamente in via Carrino, che è una traversa di via San Domenico. Si è esultato tanto nell'ottica degli annunci ad effetto per acqua e fogna in quest'area, realizzazione di rete idrica e fognante. Però non è tutto oro quello che luccica perché ci sono tante zone d'ombra, anzi zone di buio in senso metaforico in questa vicenda, in quest'area, in questa zona in modo particolare. È una situazione strana, incredibile, paradossale. Ne parliamo con Luigi Nuzzo che è stato proprio il fondatore del comitato San Domenico. Allora, di cosa si tratta? Guardi dottore, il problema è veramente, non dico grave, ma siamo giù di lì. Mi avete fatto, viva Dio, viva Dio, finalmente una progettazione sul territorio per acqua e fogna, come ha detto l'epoca, anzi. Benissimo. Via Carrino, come le altre strade, me l'avete asfaltata. Ma volete vedere che in via Carrino la fogna non è stata collaudata? Ma volete vedere che in via Carrino manca il condotto idrico? Mi avete fatto un asfalto, soldi nostri, pubblici? Consumate non salto. Qualcuno ha risposto, sì, purtroppo era previsto dall'appalto. Ma scusatevi, a me se non concesse, qui c'è la testimonianza di un abitante qui di fronte a una nostra concittadina, dove vi metterà a luce alcune situazioni. Se è andata all'EAP, è andata, ha detto signora lei non si può allacciare la fogna prima perché manca il collaudo. Secondo non ha l'impianto idrico. Io dico ma state giocando sporco o state giocando a far male alla cittadinanza? Siamo nel 2022 ancora accadono queste cose. Per di più, come è successo in via De Rosa, adesso se putacaso dovete allacciare ai cittadini, alle case, qui la fogna, mi dovete rompere di nuovo l'asfalto. Lo dovete distruggere perché in via De Rosa stanno vigli a sinistra e a destra. Sembra quasi che la mano destra non sa cosa fa la sinistra. Non sa cosa fa la sinistra. Ecco perché dico ma chi controlla questa situazione, questo andamento dei lavori pubblici nella nostra città, chi li controlla? Allora c'è una inefficienza innanzitutto del sindaco dell'amministrazione comunale centrale, dell'assessorato ai lavori pubblici, del patrimonio e dei singoli uffici comunali perché non è possibile che funzionari e dirigenti possano non sapere una situazione del genere. Non è possibile, caro Melucci, che cadete tutti dalle nuvole. Questa significa proprio gestire una città da dilettanti, dilettanti allo sbaraglio che riducono la città allo sbando, al caos. Perché immaginate i cittadini di Via Carrino cosa devono dire, cosa devono pensare di un'amministrazione che evidentemente è andata in tilt, in confusione. Ora vi chiedo anche alla diligenza, a parte i tecnici del comune, chi gestisce la situazione dei servizi a Taranto, io vi chiedo adesso, scusatemi a voi anche dell'EAP, signor dirigente dell'EAP, scusatemi, perché non date i servizi alla gente? Perché non lo date? Perché la gente non può fare la 110 perché gli manca l'abitabilità, non può fare l'abitabilità perché gli manca la fogna, la fogna l'avete fatta, non c'è l'allacciamento. Il cane che si morde la coda. Ma scusatemi, scusatemi se è poco eh. E voglio dire un'altra cosa, in modo particolare al signor Vincenzo Di Gregorio, consigliere regionale che pare quasi sicuramente si candiderà anche di nuovo consigliere comunale, quindi farà indigestione di cariche. E caro Vincenzo Di Gregorio, tu che parli e parli, ti fai bello davanti ai cittadini, rispondi, rispondi rispetto a queste inefficienze, a queste brutture, a queste assurdità che solo l'amministrazione Melucci ha saputo, poteva, poteva porre in essere. Meditate cittadini, meditate. È un'altra testimonianza di una signora, di una persona che abita proprio qui in via Carrino. Abbiamo aspettato per oltre 40 anni che venissero fatti questi servizi. Adesso che finalmente sono arrivati e potevamo legalmente stare a posto con tutto, niente. Fogna, che diventerà fantasma perché non ci potremo mai e può mai allacciare. Tronco idrico che se vogliamo che passi dovrà essere una cosa fatta da noi e non possiamo permettercelo. Ci sono dei servizi che ci possono essere dati ma non avendo l'abitabilità non possiamo soffrire. Io non lo so, non lo so, sto perdendo la fiducia in tutto perché mi sembra una barzelletta passare un tronco fognario e non il tronco idrico. Non sappiamo più a chi rivolgerci perché anche se noi poveri cittadini andiamo dall'ente preposto per fare queste cose, ci fanno fare la danza del ventre. Avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Non ci danno mai niente, né soddisfazione né niente. Eppure paghiamo le tasse, paghiamo tutto. Non sappiamo più cosa fare perché così io ho fatto lo scavo, ho fatto illudendomi che ancora una volta illudendomi che gli enti preposti mi avrebbero allacciato alla fogna e avrebbero fatto il tronco idrico. Sono rimasto, sono mesi, mesi e mesi che sono rimasto con lo scavo a terra che sono costretto a richiudere perché questi, adesso vedendo l'asfalto mi sono cadute proprio le braccia, ho detto no, non è possibile. Dilettanti, questo siete, dilettanti perché solo dei dilettanti possono compiere degli scempi del genere.